Musica Benvenuti a Fatima Oggi. Il nostro ospite di questa sera è Colin Hammond. Benvenuta Colin. Grazie padre. Grazie a lei per essere tornata. Oggi parleremo di quei fedeli che non vanno più a messa perché si lamentano che nella chiesa c'è ipocrisia. Esiste questo problema secondo lei? Sì, l'ho sentito dire spesso da gente che frequenta la chiesa e che magari ora non la frequenta più assiduamente. Alcuni di loro si sentono giudicati perché qualche altro fedele ha fatto dei commenti su come si vestono oppure su quello che fanno i loro figli. Alcune persone purtroppo ritengono di essere migliori o più sante di altre. Nella nostra parrocchia il sacerdote è stato molto bravo ad affrontare in modo diretto questo problema nelle sue omelie. La nostra deve essere una parrocchia caritatevole, un ritrovo di amici dove tutti conoscono il vostro nome, dove tutti si salutano cordialmente. Se ci sono cose non tanto belle da dover dire, lasciatele dire a me. È il mio compito. Lasciate che sia io il cattivo. E la gente adesso si trova benissimo nella nostra parrocchia. I nostri parrocchiani sono quasi tutte brave persone. Ho detto quasi tutte perché purtroppo c'è sempre qualcuno che si mette a sparlare subito dopo la fine della messa. Fanno commenti sgradevoli del tipo, sa ho sentito questa cosa, oppure lei è in chiesa, non dovrebbe vestire così. La gente si stanca e se ne va. E in molti non tornano più. Anche io ho subito commenti simili, al punto di farmi passare la voglia di andare a messa. Smettetela di trattarmi male. Sa padre, è difficile tornare a messa per una come me che si era allontanata dalla fede per ben otto anni. È andata avanti così per settimane, prima di riuscire ad avere il coraggio di entrare in chiesa. Un giorno però arrivai più tardi del solito, perché non volevo incontrare nessuno all'entrata. Mi ricordo che una persona delle ultime file si girò e mi disse Lei non è della parrocchia, vero? Quei giorni avevo trovato solo il coraggio di entrare in chiesa, ma restavo ferma all'ingresso. Risposi che stavo solo cercando il bagno e me ne andai. Appena uscita, mi imbattei in una coppia di anziani che mi chiesero dove stessi andando. Spiegai loro che avevo fatto tardi e che sarei tornata alla messa successiva. Oh no no, mi risposero, non c'è stato ancora il Vangelo, va ancora bene, venga a sedersi con noi. Fu così che riuscì ad andare realmente a messa per la prima volta da quando avevo tentato di tornare alla mia fede. E allora si chiedono, cosa ci faccio qui? Sono tutti peccatori, sono peggiori di me, ma la stessa cosa avviene in noi che ci troviamo dall'altra parte. Basta vedere quel che succede a Pasqua o a Natale. Si presentano in tanti che in genere non vengono mai alla messa della domenica, quelli che pensano che il loro dovere di cattolico si esplichi nel venire a messa un paio di volte l'anno. Ma c'è tanta gente, tra i fedeli più praticanti, che invece di essere felice per la presenza di queste persone, si arrabbia. Sì, un errore che commettono molti fedeli è quello di pensare che non ci sia bisogno di andare a messa, perché si sentono già santi. Ma il punto è che la nostra santificazione viene proprio andando a messa. Non andiamo certo in chiesa perché siamo santi. Ci andiamo perché abbiamo bisogno della grazia di Dio. La maggior parte dei cattolici non conosce questo fatto essenziale. È molto più facile vivere senza respirare che essere buoni senza la grazia. È possibile arrivare a non respirare per circa cinque minuti e sopravvivere, mentre è impossibile essere buoni anche per un solo secondo se non si possiede la grazia. Ma come possiamo ottenere questa grazia? Ma da Dio, ovviamente. E la otteniamo da Lui per mezzo del sacrificio di Suo Figlio, cioè la Santa Messa. Se ci rechiamo a messa con la giusta intenzione, cioè quella di compiacere nostro Signore, Dio ci darà le sue grazie. Anche se siamo in uno stato di peccato mortale, anche se non vestiamo in modo appropriato, e se ci rechiamo a messa per compiacere Dio, Dio qualcosa ci darà. Voglio dire, non dovremo vestire in modo inadeguato quanto ci rechiamo in Chiesa. Dovremmo sempre cercare di migliorare il nostro comportamento e il nostro abbigliamento. Ma se andiamo a messa con la giusta intenzione di compiacere Dio, allora riceveremo da Lui almeno le grazie necessarie al prossimo passo che Pampiano ci porterà sulla retta via verso il Paradiso. Siamo tutti sulla stessa barca. E a questo riguardo anche chi è stato sempre buono e non ha mai fatto cose terribili nella propria vita. Anche queste persone hanno pur sempre bisogno della grazia. Se Dio cessasse di volere la mia esistenza, sarebbe peggio che scomparire. Vorrebbe dire non essere mai esistiti. Cessando di volere la mia esistenza, diventerei uno zero assoluto, il nulla. E la stessa cosa viene con l'essere buoni. Abbiamo bisogno della grazia di Dio e la otteniamo nel modo che ci ha rivelato nostro Signore. Lui ci ha detto che, se vogliamo il suo aiuto, dobbiamo andare a messa e recitare le preghiere. Nessuno di noi può essere buono senza la grazia di Dio ed egli vuole che noi chiediamo il suo aiuto. Ci sono due modi per farlo. Andare a messa e ricevere i sacrementi e recitare le nostre preghiere, specialmente quelle rivolte alla Madonna e in particolar modo il Rosario. Per tornare al comportamento di quei parrocchiani che avevano problemi con i fedeli che si presentano a messa una volta ogni tanto e che magari li occupano il posto in chiesa, dovrebbero essere felici di tutto ciò. Forse quelle persone stanno entrando per la prima volta in chiesa, ma stanno comunque ottemperando al loro dovere di rendere grazie a Dio andando a messa e ottenendo così in cambio le sue grazie. Non dobbiamo rendere tutto ciò ancora più difficile per loro, poiché potremmo ritrovarci noi stessi al loro posto di qui ad una settimana. Potremmo essere noi a dover andare in un luogo che non conosciamo e magari non essere i benvenuti, perché sfortunatamente è vero che ci sono persone che pensano di essere migliori degli altri. Siamo tutti nella stessa situazione. Dovremmo aiutarci l'un con l'altro. In primo luogo perché siamo tutti figli di Dio e Dio vuole che ci aiutiamo a vicenda e nel caso in cui non riuscissimo a trovare in noi quello spirito di carità, e in secondo luogo cosa aiuterebbe entrambi il fatto che tutti vogliamo andare in paradiso. Quindi facciamo in modo che sia facile per entrambi andare in paradiso. Non dovremmo pensare di essere migliori di qualcun altro o ritenere che un peccatore sia peggiore di noi. Penso che la gente debba capire che abbiamo bisogno di Dio per qualsiasi cosa, per respirare, per muoverci, qualsiasi cosa. E la maggiore ragione in ambito spirituale abbiamo sempre bisogno dell'aiuto del Signore. Per tornare a noi, mi pare che lei abbia descritto molto bene questo regime di ipocrisia. Ma veniamo ai suoi figli. Oggigiorno i ragazzi tendono a isolarsi, si mandano messaggini quando magari vivono a poche decine di metri l'uno con l'altro, oppure si trovano addirittura nella stessa stanza. Invece di parlarsi, si mettono a chattare. Da quanto tempo è così? Lo ha riscontrato anche lei negli amici dei suoi figli? Beh, posso raccontarle quel che succede nella nostra famiglia. In casa ho una stanza che uso come ufficio. Lì abbiamo messo il mio computer da lavoro e quello della famiglia. In questo modo possiamo controllare quel che succede, perché non riteniamo opportuno che i nostri figli debbano avere nelle loro stanze una propria televisione o un proprio computer. E neanche un cellulare o un lettore mp3, se è per questo. Perché se avessero tutti quegli apparecchi in camera loro, finirebbero per inchiudersi in stanza tutto il giorno e non starebbero mai insieme. Ecco perché abbiamo il pc della famiglia in uno spazio comune, cioè nel mio ufficio. Possono usarlo quando ci sono anch'io, così che io possa controllare che non salti qualcosa fuori di inopportuno. Sì, ne ho sentito parlare. Mi ricordo di aver visto persone adulte e vaccinate rimanere scioccate per quello che avevano visto con un pop-up apparso all'improvviso mentre stavano navigando. E purtroppo è accaduto anche a me. Stavo navigando su un sito di Cucito e all'improvviso è apparso sullo schermo un pop-up con un'immagine che purtroppo non scorderò mai. Tanto era sconcia e indicibile. Ecco perché abbiamo i pc in un'area comune, dove la famiglia può usarli facendo dei turni. Lo so, è una soluzione un poco scomoda, ma non c'è altra soluzione. Sarebbe molto più facile comprare un paio di computers economici da 300-400 euro e darli ai miei figli. Ecco, teneteli, basta discussioni. Ci abbiamo provato una volta, ma siamo tornati alla soluzione dei pc in comune nel mio ufficio perché la soluzione più comoda in realtà non funziona. Mi ricordo che un giorno stavo davanti al mio pc e qualcuno mi chiamò il telefono. Qualche secondo dopo mi comparve sullo schermo un messaggino di mia figlia che era seduta a due metri da me in cui mi chiedeva cosa ci fosse da mangiare per pranzo. Non era una domanda importante. Avrebbe potuto aspettare fino alla fine della mia telefonata. Non era un'emergenza e mia figlia era a pochi passi da me. Era nella mia stessa stanza. Per farla breve decisi di non risponderle. Una volta finita la telefonata le dissi non farlo mai più è maleducazione e mia figlia ma io l'ho fatto proprio per non essere maleducata non volevo interrompere la tua telefonata. E io no io sono tua madre sto a soli due metri da te ti giri e mi fai la domanda. Mi capita di viaggiare spesso per lavoro e ci sono voli interi in cui posso essere a contatto con la persona che mi siede accanto senza che questa mi rivolda neanche una volta alla parola. Ci siamo isolati dal mondo. Sì in pratica ti senti solo anche in mezzo ad una marea di gente. Assolutamente è una frase che descrive bene il concetto. Pure io ne sono vittima. Capita a volte che io e mio marito ci separiamo all'interno di un grande magazzino e che successivamente io lo chiami al cellulare solo per dirgli di non scordarsi di comprare una certa cosa. O magari perché vi siete persi. Se siete dentro ad un centro commerciale sterminato può far comodo sentirsi al cellulare per darsi un appuntamento da qualche parte e non stare ora a cercarsi inutilmente. Ma c'è quest'altro aspetto che mi inquieta e cioè il fatto che i ragazzi si parlino tra loro o meglio si messaggino tra loro invece di farsi una passeggiata di pochi metri per parlarsi di persona. È come se avessimo perso la facoltà di interagire in modo naturale di parlare con qualcuno faccia a faccia. Ma è questo il modo principale con cui dovremmo interagire con il prossimo. Ovviamente se quella persona è in un'altra città o abita molto lontano da noi è giusto usare il telefono perché non possiamo andarci di persona. Ma qui si tratta di una specie di mania collettiva ingiustificata. Perché lo fanno? Ho sentito parlare di intere famiglie che non si parlano più. Si mandano messaggini ma non si parlano più l'uno con l'altro. I loro figli anche quando devono relazionarsi con altre persone non riescono più a comunicare. Nell'autobus non dicono più buongiorno a rivederci. Non che debbano per forza dirsi qualcosa ma almeno riconoscere la presenza dell'altro quello sì. Anche Gesù ha parlato di questo nel Vangelo se proprio non vuoi salutare il tuo nemico almeno ama il tuo prossimo devi amare il tuo prossimo come te stesso almeno dimostra che riconosci quella persona un essere umano come te. Sono felice di vederti. Io sono felice che tu sia felice di vedermi. Dio ci ha creati anche se ognuno di noi ha propri interessi e modi di fare almeno ci riconosciamo l'uno con l'altro. Purtroppo invece con tutti questi messaggini queste chat non pariamo a non comunicare più di persona visto che siamo abituati a mandare sms ai nostri amici che magari abitano a cinque minuti da noi non parliamo più con nessuno ci isoliamo anche se siamo attorniati da persone ma che cos'è il buon samaritano? Colui che si prende cura del prossimo e qual è la prima definizione di prossimo? Chi ci sta vicino? Chi sta intorno a noi? Intendo fisicamente magari la persona che ci abita accanto ecco chi ma sembra che la società odierna stia quasi cadendo a pezzi. Perché troppo faticoso è più facile mandare un messaggino che dover fare i convenevoli come buongiorno come sta oggi? Come vanno le cose? Oh a proposito volevo chiederle mentre ci vogliono solo dieci secondi a mandare un messaggino e non sei costretta a interagire con qualcuno in conversazione è semplicemente una questione di comodità lo so perché anch'io l'ho fatto anche io ho usato moltissimo i messaggini magari per evitare di stare a telefono per cinque minuti ma quel che succede abusando di questi mezzi di comunicazione impersonali è che le relazioni interpersonali vengono ridotte al minimo indispensabile la santa romana chiesa ci chiede di ricevere i sacramenti di persona faccia a faccia con un contatto personale ben preciso non puoi confessarti a telefono certo sarebbe comodo ma non si può fare in definitiva tutti questi strumenti sono diventati un'arma in mano al demonio perché ci allontanano gli uni dagli altri in modo da non farci interagire con le altre persone conosco diversi uomini d'affare del Texas per chi non lo sapesse in Texas le cose si fanno ancora all'antica prima di cominciare una riunione si parla ci si conosce e solo dopo ha inizio quella riunione allora dicevo ormai anche la gente del Texas che va negli Stati Uniti e nel nord per affare assume un atteggiamento molto più arido si siedono e cominciano a parlare subito di affari non parlano di nient'altro purtroppo nel mondo degli affari è tutto così ormai e ora c'è anche la possibilità di non dover neanche lasciare la propria casa si può fare tutto via internet continuano a dirci che queste cose ci aiutano perché ci permettono di avere più tempo di vivere più comodamente sì magari ci rendono la vita più facile perché non dobbiamo avere a che fare più con nessuno di persona ma così si perdono i rapporti personali sì ma è una facilità tutta apparente perché ciò che crediamo una comodità in realtà diventa una specie di droga la gente si abitua così tanto alla spersonalizzazione dei rapporti che per dover augurare il solo buongiorno diventa una cosa strana non lo sanno più dire non c'è nulla di male nel dire buongiorno oppure come sta e se vuoi fare l'introverso vuoi continuare a leggere il tuo libro fa pure va benissimo ma almeno un minimo di convenevoli ti conosci almeno la presenza dell'altra persona ma certa gente non fa neppure questo e la cosa peggiore è anche che i bambini hanno imparato a comportarsi così un conto è dire mi scusi sono occupato un sacco di cose da fare non posso parlare con tutti ma almeno dire salve a chi mi circonda quello dovrebbe non essere un problema poi posso pure continuare per la mia strada anche i bambini si comportano così e non hanno motivo in genere non hanno troppe incombenze a cui pensare eppure non parlano più con il loro vicino di casa e nemmeno con gli altri ragazzi alla fermata dell'autobus si mettono a mandare sms ai loro amici su chissà quale argomento e se incontrano qualcuno quasi sempre lo ignorano non è certo una bella cosa penso che la famiglia e la comunità vogliono dire dialogo con chi ci sta accanto e tutto questo lo stiamo perdendo lei ha parlato prima dei sacramenti ovviamente essi non provengono la chiesa in sé e per sé ma da dio in persona i sacramenti sono un elemento della nostra fede che trovo molto importante perché sono un incontro personale con il nostro signore ovviamente lo sono anche con il sacerdote che li amministra ad esempio quella che si staura tra il penitente e il sacerdote durante la confessione è una relazione interpersonale assai profonda e particolare perché chi va a confessarsi rivela al sacerdote cose estremamente personali le più intime che esistano per questo motivo anche il sacerdote può e deve essere capace di relazionarsi profondamente con il fedele diventando per lui una guida quando ci confessa il sacerdote sta in realtà riscoprendo quattro ruoli diversi alcuni dicono che stia lì seduto soltanto per giudicarci ma non è così certo deve valutare ciò che gli dice la persona ma il primo e il più importante ruolo che ricopre è quello di un padre il cui interesse principale è quello di salvaguardare la nostra anima ed è quindi anche un dottore perché ci aiuta a curare la nostra anima a lenirla dai propri peccati se una persona confessa di essere ricaduto spesso in un peccato già commesso in precedenza la prima domanda che il sacerdote deve porsi è da dove provenga il peccato in questione quali sono le sue radici perché ogni peccato ne ha una diversa e per ogni persona esistono radici motivazioni profonde diverse l'una dall'altra che il sacerdote deve riuscire a comprendere per poter aiutare la persona a superare quel particolare peccato è evidente che se un fedele confessa sempre lo stesso peccato vuol dire che ha un problema specifico ma non puoi aiutarlo finché non conosci le radici in questo modo il sacerdote acquisisce esperienza grazie alle confessioni delle persone oltre a quello che hanno lasciato detto i santi è un processo di accrescimento di formazione costante per il sacerdote che poi dovrebbe applicare questa esperienza nell'aiutare il fedele concretamente spesso lo fanno altre volte no c'è gente che si chiede se il sacerdote sia in grado di fornire una risposta a certi problemi la risposta è sì ma bisogna vedere cosa hanno prescritto e quali risultati hanno ottenuto con prescrivere non intendo ovviamente una ricetta per una medicina ma specifiche azioni pratiche religiose preghiere in cambiare certe abitudini e cose del genere niente di invasivo o di difficile allora se penso di dover intervenire magari di coloro che si è trattato di un buon consiglio e quindi un rapporto molto personale ed è forse per questo che la gente trova più difficile oggigiorno andare a confessarsi sono così impegnati a mandarsi messaggini in un l'altro che non riescono più neanche a dirsi buongiorno quando si incontrano per strada lei ci ha raccontato di essere tornata a confessarsi dopo otto anni forse ci può raccontare meglio che cosa provò quel giorno e i suoi primi pensieri se non erro mi ha detto che si aspettava di rimanere in confessionale per non più di due o tre minuti oh sì pensai tra me e me ora vado dentro gli snocciolo tutti e dieci comandamenti quello mi dà la penitenza e sono fuori di qui in un istante ora vado dentro gli snocciolo tutti e dieci comandamenti quello mi dà la penitenza e sono fuori di qui in un istante ma quel sacerdote si comportò effettivamente più come un padre e come un dottore mi continuava a ripetere non sia dura con se stessa adesso è qui ha confessato questo peccato adesso cosa mi può dire a riguardo a quest'altro peccato e poi cominciò a darmi dei consigli perché non provo a fare questa cosa invece di quest'altra e io oh padre non so se sarei in grado di farlo e lui allora provi quest'altra cosa forse può funzionare insomma fu di grande aiuto e ogni volta che insegno catechismo ai bambini nella mia parrocchia racconto loro la storia della mia prima confessione proprio per fargli capire che non si tratta di un processo che il sacerdote non è lì per giudicarti e metterti in galera e non dirà mai oh che cosa terribile hai fatto non posso credere alle mie orecchie tante volte sentiamo dire lei non può giudicarmi è giusto ma dobbiamo pur sempre riconoscere la verità oggettiva dell'errore e dire sì sì no no non voglio dire che ti sto giudicando o che andrei all'inferno la confessione è una specie di liberazione dal peccato che ci sta imprigionando proprio come le sbarre di una cella possiamo romperle ed evadere dalla prigione del peccato grazie alla confessione si tratta quindi di un'esperienza assai liberatoria mi dispiace molto per i protestanti che non hanno questo sacramento beh vede vi sono due aspetti legati alla confessione da un lato c'è il bisogno della grazia ma dall'altro della conoscenza sicuramente il sacerdote deve conoscere la natura del sacramento e del proprio ruolo ma parlo soprattutto di conoscere più possibile nel profondo il penitente che abbiamo davanti in questo modo il sacerdote può fornire un consiglio valido al fedele che si confessa può spiegargli cosa deve fare per quale motivo va fatto così qual è il suo temperamento il suo background ricordo ancora quel che disse mio padre spirituale tanti anni fa c'era una cosa che volevo fare a tutti i costi volevo restituire un oggetto che apparteneva a un'altra persona valeva se no 5 dollari ma lui mi dissuase da farlo mi disse che in questo caso Dio non voleva che restituissi quell'oggetto che non sarebbe stata una buona idea e questo non perché non appartenesse a quella persona anzi ma solamente perché i benefici di quel gesto non valevano la pena dei sacrifici e dei pericoli che avrei dovuto correre per farlo in quella occasione il sacerdote ebbe come posso dire una sorta di saggezza speciale le grazie di Dio ci vengono donate durante la confessione in genere sono rivolte al penitente ma spesso Dio le concede anche al sacerdote in questo caso si trattò di una comprensione soprannaturale di ciò che andava e di ciò che non andava fatto mi è capitato di pronunciare delle omelie che successivamente si sono rivelate molto giuste e mi sono chiesto spesso da dove veniva tutta quella consapevolezza non avevo mai pensato a quelle cose prima d'allora che non provenivano dalla mia intelligenza evidentemente tra i federi quel giorno c'era qualcuno che aveva bisogno di sentir dire una determinata cosa e Dio me l'aveva concessa l'avevo pronunciata volontariamente e aveva assolutamente senso per me ma non ci avevo mai pensato prima di allora questo per dire che molto spesso durante la confessione il sacerdote riceve una saggezza speciale in merito all'anima che si trova dinanzi a lui certo anche i sacerdoti possono commettere degli errori perché sono pur sempre degli uomini basta vedere quel che succede con la comunione nella mano a questo proposito può raccontarci l'esperienza della sua prima comunione dopo tanti anni di allontanamento dalla fede certo quando passati otto anni mi avvicinai nuovamente alla fede cattolica all'inizio non riconobbi nulla dopo otto anni c'erano stati dei cambiamenti enormi come ho detto la scorsa puntata c'era una stanza della riconciliazione invece del confessionale all'inizio pensai che si trattasse del posto dove america e russia si trovavano a discutere dei loro problemi non la vedevo proprio come un confessionale ma c'erano anche altre cose che nel frattempo erano cambiate e che mi disorientavano non poco per prima cosa il sacerdote voleva che pronunciassi la liturgia della parola per via della mia esperienza in tv e perché gli mancavano dei ministri eucaristici non sapevo neanche cosa fosse un ministro eucaristico quindi me lo spiegò quindi me lo spiegò e ci rimasi di sasso era tutto diverso ma il sacerdote mi disse che ora facevamo così che faceva parte del modo di partecipare alla messa ma io ero stata cresciuta in un altro modo partecipare alla messa pregare seguire il sacerdote sul messale quella era per me la partecipazione una partecipazione attiva per quanto mi riguardava ma queste cose erano nuove c'erano moltissime novità ma mi dissi che il sacerdote non mi avrebbe mai ingannato ma quando diveni ministro eucaristico cominciai a fare cose che andavano contro ogni insegnamento appreso da piccola anche se poco era il catechismo che avevo imparato da bambina pur sempre aveva importanza per me la fede impressami da bambina ad ogni modo insomma divenni ministro eucaristico ma la prima volta che lo feci mi sembrò di fare qualcosa di sbagliato e così anche la seconda volta e la terza non mi sentivo a mio agio nel toccare il corpo di nostro signore visto che alla stessa maria maddalena gesù disse non toccarmi se non lo poteva fare lei perché avrei potuto farlo io allora cominciai a riflettere più approfonditamente sulla questione tra l'altro in quella parrocchia ricevevamo la comunione sulla mano e anche in questo caso la cosa non mi sembrava giusta non mi sembrava appropriato come ministro eucaristico maneggiare l'ostia consacrata figuriamoci riceverla in mano come un semplice fedele allora cominciai a chiedere la comunione sulla lingua ma venne presto un sacerdote nuovo che sostituì quello precedente e la prima volta che amministrò l'ecarestia quando mi ingionocchiai davanti a lui per riceverla sulla lingua si rifiutò di darmela è peccato è peccato non deve agire così sta cercando di farsi bella davanti a tutte le altre persone di fare la santarellina ma non era così non volevo toccare con la mia mano impura il corpo di Cristo non mi ero certo messa sul pulpito né tantomeno volevo atteggiarmi a fare la superiore ma niente si rifiutò di darmi l'ostia allora andai in un'altra chiesa e anche lì la stessa cosa a quel punto fui costretta a fermare il sacerdote e a chiedergli mi sta forse rifiutando il sacramento so bene che non possono farlo e alla fine ci ha dette sì mi ricordo che mi aveva parlato del fatto che certi sacerdoti si rifiutano di dare la comunione quando ti inginocchi e tieni le mani giunte in questo modo o a meno che non li affronti e li chiedi esplicitamente mi sta forse rifiutando il sacramento il punto è che il diritto canonico su questo argomento dice da sempre la stessa cosa e cioè che la comunione sulla lingua è la norma ora penso che il 90-95% dei sacerdoti che sono in ascolto in questo momento potrebbero dissentire ma è così si può leggere benissimo nel diritto canonico personalmente non ho mai impartito la comunione sulla mano hanno provato a costringermi a farlo ma non sono mai riuscito a mostrarmi l'articolo del codice di diritto canonico che me lo imponesse alla fine sono andato a cercarlo per conto mio e ho verificato che la comunione sulla mano è in realtà un'eccezione alla norma esistono sette regole e due principi generali che vanno seguiti alla lettera per poter dare la comunione sulla mano e nessun sacerdote che io conosca ha mai eseguito queste regole non posso conoscerli tutti ovviamente ma secondo la mia esperienza personale di sacerdote ad esempio non viene quasi mai rispettata la quinta regola cioè il fatto che non si debba far cadere neanche una briciola dell'ostia consagrata perché è il corpo di Cristo durante diverse messe ho potuto osservare i fedeli che ricevono la comunione sulla mano posso tranquillamente affermare che solo il 20% di loro di media osserva la propria mano e controlla che non vi siano rimasti i frammenti di ostia consacrata l'altro 80% non lo fa e si tratta di una percentuale altissima ma in ultima analisi la decisione finale spetta al sacerdote non me lo può ordinare nessuno di impartire la comunione sulla mano né il papa né il vescovo né il cardinale né tantomeno un paroco solo il sacerdote che amministra il sacramento può farlo è scritto nel diritto canonico ma di norma essa va data sulla lingua spetta al ministro quindi verificare se sussistono quelle sette condizioni non al vicario o al vescovo ma al sacerdote cioè nel mio caso io e nessun altro fino ad oggi non ho mai riscontrato una singola occasione in cui non vi fossero le condizioni di impartire la comunione sulla mano ma la regola base è che nessuno può essere rifiutata la comunione sulla lingua è una regola alla quale sono soggetti sia il sacerdote che i fedeli potremmo andare avanti e parlarne di questo per ore ma abbiamo purtroppo finito il tempo a nostra disposizione ringraziamo Colin Hammond per essere stata con noi grazie a lei padre grazie per essere stati con noi e ricordate di recitare il rosario tutti i giorni e che è il vostro diritto ricevere la comunione sulla lingua se avete problemi scriveteci o chiamateci al numero verde in sovraimpressione per avere ulteriori informazioni che Dio vi benedica grazie a tutti i giorni grazie a tutti i giorni